57. Mi trasformo. Perché la morte non esiste? E la reincarnazione come si spiega? Commento. Non esiste la morte di niente, ma la trasformazione di tutto. 58. Un pomodoro, un esempio banale. Io lo mangio, ma non muore, perché si trasforma in un essere che è maggiore del pomodoro. 59. Io abbandono il piano fisico, ma non muoio, perché reincarnandomi mi trasformo in un essere che è maggiore di me.